Ha riportato ferite alla gamba e alla testa, ma non è in pericolo di vita il giovane nisseno di 12 anni che è stato investito oggi pomeriggio da un'auto mentre percorreva in bicicletta la corsia ciclabile all'altezza di via Bloi. Subito dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane per poi accompagnarlo in ospedale. In via Bloi sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.